Minergy è dal 1998 lo standard svizzero per il miglior comfort, l'efficienza e il mantenimento del valore nel tempo. Fino ad oggi ci sono più di 45.000 edifici certificati Minergy. Abitazioni private, uffici, industrie, musei, centri sportivi, asili e ogni giorno se ne aggiungono altri. Contiamo un totale di più di un milione di persone che quotidianamente vivono Minergy. Tra queste più di 630.000 abitano in costruzioni Minergy. A loro se ne aggiungono quasi 370.000 che lavorano, studiano o trascorrono il loro tempo libero in edifici Minergy. Ad esempio in una delle 1200 scuole, nelle 130 piscine coperte, nei 150 ospedali oppure nei 600 ristoranti certificati Minergy. Insieme a lei, quale utente o addetto ai lavori, abbiamo già risparmiato quasi 50 miliardi di kilowattora. Ciò equivale a due giri attorno alla terra di tanniche di petrolio, che voi non avete utilizzato. Per risparmiare ancora più energia, in futuro abbiamo completato i nostri standard di costruzione e il complemento ECO con efficaci garanzie di qualità. Abbiamo così completato la nostra gamma di prodotti Minergy, che la accompagna dalla progettazione alla realizzazione fino all'esercizio a lungo termine. Per migliorarci con voi, costantemente, anche dopo 20 anni.